Il web e i social network sono spesso il luogo in cui nascono e crescono imbarzanti mode, spesso sciocche come il sellotap e serfie o audaci come gli affetters ex serfie, vere e proprie manie fotografiche di cui, diciamocelo, davvero non sentivamo il bisogno. Dopo il see the body lunderbob con seno in mostra, l'ultima imbarzante tendenza trash che spopola tra le donne in Inghilterra e quella delle foto in cui si mettono in mostra le gambe non depilate. Sì, avete capito bene. In Gran Bretagna sono sempre di più le donne che hanno scelto di rinunciare alla ceretta lasciando le loro gambe pelose come quelle di un uomo. Fin qui nulla di strano, ogni donna è libera di fare ciò che desidera del proprio corpo e, se non ha intenzione di sottoporsi ad estenuanti seduti dall'estetista per stirpare i peli superflui, non saremo di certo noi a giudicarla. Senza dubbio, però, le donne air potrebbero evitare di condividere sui social network le loro gambe pelose, tenendo per sé le fotografie intime. Purtroppo le immagini di questo tipo, grazie a Facebook e a Tumblr, sono ormai divenute di dominio pubblico e aumentano sempre di più. Il trend britannico ha persino dato il la per il lancio del club a tema, chiamato Airy Legs Club, del quale fanno parte tutte le donne che odiano la ceretta e amano mostrare le proprie gambe pelose. L'abolizione delle strisce delipatorie è un himno al femminismo o al cattivo gusto? Non importa. Basta pubblicare online il proprio scatto privato. Nell'era in cui se non condividi non esisti capita anche di dover osservare immagini private di donne con gambe e iri. Quindi è tutto vero, non c'è proprio limite al peggio. Chi se ne frega.